Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Avera Omnia, versione global. Quest'oggi, signori, parliamo di un nuovo evento inserito in game, ovvero la Boss Rush. E prima di mostrarvi i team con la quale ho affrontato la Lofenia, volevo parlarvi un po' di questo nuovo contenuto. Io, personalmente, lo adoro. Stiamo parlando di un contenuto che doveva starci da sempre in game, prima dell'uscita degli Stage X. Contenuto che si potrebbe pensare a vantaggi veterani, ovvero i player con tanti personaggi, e per un certo senso potrebbe anche essere così. Ma ricordiamoci che Opera Omnia è un gioco abbastanza generoso, verso tutti. Di fatti, con i personaggi presenti attualmente nei banner, si riesce a superare scioltezza, in special modo con Filion nel party. Con ciò non sto dicendo che se iniziate a giocare oggi o giocate da circa una settimana sarete in grado di superare questo Stage, poiché per potenziare un personaggio, come ben sappiamo, servono le Mastery, servono i Lingotti, servono i Token. Serve effettivamente un botto di roba. Roba che in un mesetto, volendo, si potrebbe farmare, ma forse stiamo divagando un po' troppo. In cosa consiste esattamente il Perfect di questo Stage? Come si ottiene? Come sempre abbiamo le limitazioni del KO, del Dan HP e dello score, ma abbiamo un cambiamento nella limitazione dei turni. Di fatti, durante la run, avremo dei turni limitati. Turni che saranno conteggiati da un timer posto in alto a destra dello schermo. E quando questi turni termineranno, dovremmo cambiare obbligatoriamente il team. E qua arriva la parte complicata del nuovo contenuto. Meno team utilizziamo per completare lo Stage, maggiori saranno le ricompense che potremmo ottenere. Ora, io ero convinto che i team da usare per ottenere tutte le ricompense fossero massimo 3, ma in realtà le missioni ci chiedono di completare lo Stage con un massimo di 2 team. E dunque direi di passare ai team che ho utilizzato per superare questa cofenia. Primo team composto da Firion, Gladio e Rachin con Sammon Brothers per aumentare il Max Brave. Mentre nel secondo team ci troviamo Cloud, Lightning e Vivi con Sammon Diablos per andare ad effettuare, per andare ad arrecare dei danni di elemento buio. Naturalmente, essendo una lofenia, dovremmo fare i conti anche con il Cundown. Nella prima ondata non sarà presente, mentre nella seconda e nella terza ondata sì. Ma tranquilli, è un Cundown abbastanza semplice da caricare. Nella seconda ondata lo carichiamo attraverso i lanci, ovvero quando prendiamo i boss e li facciamo volare per aria. Mentre nella terza ondata lo carichiamo con il danno di elemento buio. E qua ci tornano utilissimi sia Diablos come Sammon che Vivi. Poiché Vivi riesce ad effettuare danni di elemento buio e il Cundown non è affatto un problema. E dunque abbiamo superato questo Stage senza subire il KO, senza subire il danno HP, utilizzando solo due team e con uno score superiore al milione. Come vi dicevo, io ero convinto che i team massimi per ottenere tutto fossero 3. Beh, dunque avevo preparato tre squadre completamente differenti da quelle che avete visto, anche perché non avevo l'arma LED di Firion. Ma finalmente oggi il gioco mi ha concesso la sua arma, dopo averci speso davvero un fottio di ticket. E devo comunque ammettere che senza Firion sarei stato parecchio impreparato per superare questa Stage, poiché è vivamente consigliato portarsi dietro a personaggi che fanno danno al di fuori del proprio turno. Ed io a parte Gladio non ho nessuno. Non avevo assolutamente nessuno, quindi è stata un'ottima giunta Firion nella squadra. Ma signori direi che mi sono dilungato fin troppo, dunque fatemi sapere voi con quale team avete superato questa Boss Rush. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo contenuto. Naturalmente, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, lasciate like e condividete il video per supportare il canale. E detto ciò, vi lascio alla Boss Rush. Buona visione! Buona visione! Buona visione! Buona visione! Buona visione! Grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.